ciao a tutti terza parte del sole oscuro l'elaborazione di un talk dato la settimana scorso almeno quando registro a mestre nell'ambito appunto di un congresso di fisica solare tenuto dai colleghi ma soprattutto amici di fisica solare che avete visto su queste frequenze già in passato più volte questa volta il sole luminoso attraverso i muri in realtà appunto la luce può passare potrebbe passare attraverso i muri tramite gli azioni solari quindi come vedremo ci sono telescopi che stanno sottoterra o comunque stanno dentro un laboratorio chiuso con tutte le mura perché in realtà sperano di vedere la luce del sole tramite gli azioni attraverso i muri ma vedremo fa parte appunto della nuova fisica la fisica celata all'interno della nostra stella la fisica che facciamo molta fatica infatti ancora non si vede niente a tirarla fuori dalla stella ma è uno dei punti più interessanti dove andarla a cercare nei vari canali abbiamo visto i neutrini abbiamo visto la materia oscura vediamo anche le azioni che è una cosa che deve esistere l'azione un'altra delle cose che è qua al contrario lui dovrebbe esistere però non sa di dover esistere quindi nessuno lo trova viene da un articolo di Peccei e Quinn del 77 Peccei e Quinn dicono guardate cari miei che il il neutrone c'ha un momento di non c'ha momento di dipolo elettrico ti ricordate il momento di dipolo elettrico dell'elettrone che se era misurato e non ce l'ha perché lì non ce lo doveva avere e il fatto che non ce l'avesse c'è appunto la puntata vuol dire che le particelle virtuali che stanno intorno all'elettrone non ci sono composti di particelle per lo più del modello standard e non si è vista evidenza di altre particelle che contribuirebbero al momento di dipolo elettrico dell'elettrone qua è la stessa cosa il momento di dipolo elettrico del neutrone è zero secco però non c'è nessun motivo per cui debba essere zero secco infatti anzi le interazioni che violano ACP charge and parity carica e parità vi ricordate che nella puntata del teorema di nether ogni cosa che si ogni simmetria vuol dire che c'è qualcosa che si conserva e se c'è qualcosa che si conserva di solo c'è una quantità o una particella associata se non ci fosse nulla queste violazioni questa ACP dovrebbe andare alle stelle e il momento di dipolo dovrebbe essere molto elevato il momento di dipolo del neutrone in realtà è zero secco è zero secco e allora loro dicono guardate se è zero secco ci deve essere una nuova simmetria interna alle particelle e e e questa simmetria interna alle particelle vuol dire ci deve essere una nuova particella che tiene insieme questa simmetria che mi forza zero il momento del neutrone se è complicato se sembra complicata perché è complicato ma insomma la sostanza è che per ogni simmetria voi bene o male a natale ricevete una nuova particella e qui e e ogni simmetria ti mette fitti fissa un punto ti dice che tu sta cosa non la puoi fare essenzialmente ossia o meglio questa cosa è vincolata ad esempio la simmetria temporale dice oggi e domani se fate le misure lo stesso procrastina pure perché la fisica non cambia e si conserva l'energia la misura invece la conservazione del momento del dell'impulso dice guarda se la misura la fai qua o là è la stessa cosa e quindi è il sistema invariante per trattazione spaziale e si conserva appunto l'impulso e è quello stesso per la spesa simmetria che però è ipotizzata ma non si trova allora diceva bene allora questa particella com'è fatta è fatta così così eccola e la chiamiamo azione axion tra l'altro chi si ricorda gambasse in una delle astronavi si chiamava axion e axion credo che fosse quella m però quella di walley se non ricordo male ma scrivete se ho detto una scemenza e l'idea appunto è che questo tipo di azione si è fortemente accoppiato con i fotoni cioè a vari modi per interagire e e e far sì che il fotone di si tramuti in azione e viceversa ovviamente conservando tutto conservando tutto quello che dovete anche perché lui poi ha carica zero e c'è questo effetto che è chiamato effetto primakov dal dal suo dal suo inventore scopertore ipotizzatore principale ipotizzatore finale o primario in cui essenzialmente ma lo vedremo tra pochissimo ci sono vari modi con cui l'azione a e l'azione gamma il fotone e l'elettrone o quale può essere qualunque altro sistema eccitato del del mio modello standard e quindi posso interagire in vari modi con con il il mio assione il più semplice che per il momento mettiamo qua e poi vediamo dov'è che si manifesta l'effetto prima che appunto un campo un elettrone e genera un campo elettrico elettrostatico virtuale la carica elettrica che sta nell'altra serie quella sul campo elettrico un fotone che passava lì di lì per caso dice ah oh che che campo elettrico intenso sai che c'è io mi muto in un in un in un'azione tanto la carica è zero nessuno e nessuno ferisce nessuno comanda e questo è appunto potrebbe essere l'azione ed è l'esistenza e l'interazione dovrebbe essere legata appunto alla simmetria che dicevo prima l'effetto primakov che 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 il principale modo per generare e vedere i fotoni soprattutto quelli del sole è una cosa che esiste ed è stata osservata infatti già nel settantaquattro quando si andava a studiare quello che veniva al tempo chiamato il mesone pi neutrale e adesso per gli amici è pi zero ci sono tre mesoni quello neutrale neutro di pi zero e poi eh il il pi più e pi meno a secondo di come sono fatti i i quark sono fatti sempre da un quark e un anti quark eh però se la somma da più uno o da meno uno ci sono anzi saltiamo avanti eccolo qua eh se il il pi più è fatto da un up e un anti down e il pi meno è fatto da un down e un anti up e quindi questo qui vi dà una carica meno uno questo qui vi da una carica eh più uno il pi zero qui è scritto male non è che è fatto da un up anti up o da un anti down sarebbe troppo semplice è fatto da una combinazione lineare di tutti e due in pura meccanico antistica tutte e due e nessuno è viva così infatti il diviso radice di due perché sto mettendoci due cose qui sopra e per tanto questo mi dà zero perché questo c'è la carica up e anti up c'è una carica opposta down e anti down c'è una carica opposta li posso insomma tanto la carica lettere zero più zero però devo normalizzare la funzione d'onda per le leggi della meccanica quantistica e questo è il mio pi zero che è l'antiparticella di se stesso sapete quando uno dice se tu sei il tuo peggior nemico di te stesso è il pi zero è il peggior nemico di se stesso perché la sua antiparticella è se stesso e si annichila con se stesso e comunque decade in un tempo infinitesimale 10 alla meno 17 secondi già questo già il pi più e pi meno decade in 20 nanosecondi ma questo decade in un milionesimo di nanosecondo più o meno quindi è il pi zero due gamma cioè come 8 per 8 64 pi zero due gamma voi dovete imparare di sta cosa perché il decadimento del pi zero essendo neutro può decadere solo un'altra cosa neutra in quasi tutti i casi saranno proprio cose strambissime però non può decadere in un gamma perché dovete conservare il momento per il teorema di nether detto 50 volte dovete cadere in due gamma quindi pi zero due gamma e questo qui è il pi zero il pi zero proprio perché decade molto rapidamente ha una sua grandezza che non è questa cicciotteria del pi zero è legata al fatto che lui vive talmente poco che ha un'incertezza energetica legata all'interminazione di heisenberg meno vivi più stai largo in energia quindi loro misurano la grandezza di questo oggetto qua e dice guarda la grandezza di decadimento per il pi zero è 8 elettron volt ed è appunto ottenuta dalla grandezza della dell'ampiezza di primakov che in questo caso il diagramma di feinman è un po' complesso ma in realtà meno di quello che sembra e fa sembra quello che vedremo tra pochissimo per l'assione un gioco per bambini voi avete qui una un nucleo qualcosa ci deve stare vi ricordate anche quando abbiamo fatto la lo scattering compito nella materia e così via ci deve essere una parte nucleare un qualcosa nel vuoto non succede niente a parte l'interazione con il fondo cosmico questo qui è una particella carica un quark un pezzo di nucleo che c'ha una particella carica quindi emette un campo elettromagnetico un campo che ai fini nostri è un gamma qui per conto suo stava venendo un gamma e che succede che questi due si dice sai che c'è io mi posso scambiare qualunque cosa io mi scambio un un quark app in realtà ti scambi la combinazione di tutto ma facciamo finta che ti scambi solo un quark app oh che bello allora vuol dire che però in questa maniera io posso quello che sto creando qui è una corrente in cui c'è un quark app che va in questa direzione va in quest'altra direzione perché i fermioni devono avere il recinto chiuso se vi ricordate anche le interazioni classiche o non possono essere aperti e questo app e anti app che va contro mano è proprio un paizero dopodiché questo paizero appunto decata in due gamma perché questo questi due app e anti app sono l'antiparticella di se stessa stanno vicinissimi non possono fare altro che annichilarsi e darmi i due gamma e questo qui è l'effetto primacoff in che è appunto ehm come un enzime catalizzi un enzima catalizzato da questo quark qua mi dà la risonanza poi zero questa è buone e questo si vede si misura eccetera eccetera allora dice vabbè allora che può essere un po se c'è l'azione l'azione deve fare lo stesso qui questo è preso da un diagramma del servo qui stiamo dentro al sole un fotone di quelli ce ne avete quanti ne volete la reazione nucleare gamma questo è quello che volete di reale interagisce col campo elettromagnetico del fotone virtuale ma sempre fotoni sono esattamente come questi fotoni qua questo virtuale questo reale interagisce tanto più che qui c'è tutta la densità possibile immaginabile perché avete densità mostruosa del del nucleo del sole crea un'azione ai fini dell'interazione l'azione ti passa il sole come fosse il neutrino e va bene e quindi se esiste ci sta trapassando come neutrini e va bene molto di meno come il numero però non ha interazioni salvo che se qui gli metto un altro campo magnetico o meglio in laboratorio questa è la parte del laboratorio quindi 148 milioni di chilometri metto un campo magnetico molto forte che alla fine della fiera il campo magnetico per le trasformazioni lorenz è come un campo elettromagnetico e mi genera anche questo un campo un gamma virtuale allora deve fare l'opposto deve fare l'opposto e generare l'azione deve morire e darmi il gamma ora io questo gamma dov'è che lo vado a vedere questo bel gamma che deve venire dal sole perché il sole sta lì la direzione è quella loro sono tutti collimati quindi deve venire dalla direzione del sole lo vado a vedere sottoterra o comunque dietro le mura perché altrimenti sono accecato da tutto tra l'altro questo gamma dovrebbe stare nella frequenza dei raggi x quindi che faccio faccio il mio telescopio dentro dentro casa dentro il laboratorio dentro la mura del laboratorio perché l'azione passa le mura del laboratorio se si trasmutasse in foto da fotone con fotone virtuale in fotone reale dovrei vedere i raggi x che mi brillano dalla luce del muro in una direzione specifica che dove sta il sole spoiler non si è visto niente quindi indovinate un po che si fa fa uno splendido diagramma di esclusione come visto anche nelle altre puntate precedenti solo che qui andiamo a masse non piccole microscopiche che sfiorano il patetico o il ridicolo qui parliamo di un di 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 un elettron volt 10 elettron volt quindi parliamo di energie appunto simile ai telescopi e le stelle e gli undici e tredici elettron volt ma erano corrette tredici e sei elettron volt è la ionizzazione dell'idrogeno quindi stiamo alla ionizzazione del visibile ultravioletto che è la massima che riesco ad avere dopo lì che qui scendo alle energie di miliardesimi di elettron volt centesimi di miliardesimi di elettron volt perché l'azione è molto molto leggero se vi fidate della qcd della quantum chromodynamics che è la teoria dell'interazione forte che a cui si accosta la teoria di peccay queen che dice ci deve essere quest'altra particella la massa dell'azione deve stare qui e questa qui lo chiamano l'accoppiamento azione fotone ma essenzialmente è una è una sezione tutta la stessa sigma che si vedeva nelle puntate precedenti e quindi però io non so se la massa è questa l'accoppiamento è questa la massa è questa e così via resta il fatto che eccolo qua light shining through walls la luce che brilla attraverso i muri castell esperienza che vedremo tra pochissimo il fatto che non si vede la luce delle stelle anche qui e si cerca di grattare allo scopo è un tipo particolare di rivelatore che però non cerca perché l'axion helioscope lo scopo ossionico è il telescopio guarda il sole lo ha lo scopo in giochi di parole da fisici è brillantissimo rivelatore però cerca di vederlo come azioni come come materia oscura c'è nell'ipotesi che l'azione sia anche la materia oscura allora deve stare già qua e allora lo vedo senza dover aspettare che mi brilli il il sole questo piersi che si chi vi è quello che si è inventato questo tipo di di rivelatori fichissimi e appunto anche qua sotto terra fate lo stesso lavoro quindi di neutrini solari danno una curva di esclusione tutti i xenon tutti i rivelatori sotto terra ti dicono guarda non c'è niente anche omega centauri che è uno dei nuclei che ci siamo mangiati di altre galassie ci siamo mangiati ma ancora non abbiamo digerito e ci mette un'altra curva di esclusione e anche qui però sotto certe ipotesi e così via ma insomma l'azione non si è visto e vediamo un telescopio solare ecco qua questo come dicono spesso e signori miei è un telescopio e sta osservando il sole sta al chiuso al dentro al buio eccetera eccetera perché appunto infatti non lo potete inclinare lo potete solo ruotare per cercare infatti vedete qui binari sono tipo quelli che cambiavano i locomotivi una volta in orizzontale però lo potete vedere per un'ora e mezzo scarsa quando il sole sorge e un'ora e mezzo scarsa quando tramonta e dovete ruotare tutta la baracca di 180 gradi nel resto del tempo fate misure di fondo cerca perché così il segnale che vedere quando il sole non c'è dite vabbè io questo lo tolgo e cerco questo famoso famigerato sole la furbatissima è che si sono presi uno degli degli magneti di lhc dei prototipi hanno detto sai che c'è se ti avanziamo un magneto di prototipo che ti me lo potresti dare che io ci metto un campo magnetico appunto di 95 tesla questo campo magnetico intensissimo che in lhc si apre per far deviare le particelle nella nel raggio di curvatura qui o qui mi serve per creare questo campo magnetico trasverso e cercare di far mutare l'azione in gamma è tutto bellissimo è anche un'idea molto 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 figa però anche qua curva di esclusione come se non ci fosse un domani e anche qui la massa vedete è micro elettron volt milionesimi di elettron volt in varie ipotesi questo lo vedono anche nelle radiofrequenze ma insomma fondamentalmente non si vede niente però l'azione deve esistere cioè anche che non si vede niente e c'è molta meno nuova fisica di quanto ce ne sarebbe nella dark matter la quattro dovrebbe ipotizzare la supersimmetria e così via se ipotizzate il neutrino l'azione in realtà avviene dal fatto che la 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 fisica nucleare dice no guardate qui c'è questo a fare qui che il neutrino che c'ha momento elettrico zero e non deve essere zero e ci deve stare una particella poi magari non c'è l'azione c'è un'altra teoria però insomma dovrebbe esistere il problema che non sapendo la massa non sapendo la costante di accoppiamento appunto che non è una cosa sozza ma è la sezione tutta la possibilità con cui lui si muta la costante di accoppiamento la probabilità che in presenza del fotone questo faccia questo questo lavoro qua cioè il gamma si muti in azione più alta è questo numero qua maggiori azioni dovrà avere maggiore la probabilità che ritornino fotoni e la luce che brilla dai muri e lo vedrà e lo vedrei però appunto ragazzi mi spiace anche questo è un bellissimo e splendido upper limit per questa puntata con le azioni chiudiamo qui e tra poco nel fine settimana se tutto va bene continueremo il sole oscuro il sole che brilla dai muri che come parte di fisica solare però di nuova 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 nuovissima fisica ancora appunto misteriosa grazie mille e buona giocata ciao